Io ritengo che il voto di fiducia sulla legge elettorale non abbia nessun significato se non quello di umiliare il Parlamento e quindi auspico davvero da parte del Governo una prova di coraggio e una prova di forza. Mettere la fiducia è una prova di debolezza, non è una prova di forza. Noi avevamo conosciuto un Presidente del Consiglio coraggioso, non un Presidente del Consiglio che si nasconde dietro il voto di fiducia. È vero che questo Governo ha dato grande impulso alle riforme, ma non per questo è autorizzato a fare le riforme che vuole il Governo e non quelle che vuole il Parlamento.